L'architettura è un bene pubblico, non esiste una trasformazione del territorio, non esiste architettura che non incida sul contesto sociale, il contesto sociale in cui il cittadino vive, lavora, prega, svolge tutte le proprie attività. L'aspetto pubblico è fondamentale, chiaramente con il contributo dei privati. Ed è una cosa della quale vado fiera che la Fondazione riesca a mettere insieme, a modire come una conferenza di servizi intorno a un tavolo, tutti gli enti pubblici, attori del processo di costruzione dell'architettura, proprio per costruire un progetto che abbia come finalità l'uomo, il cittadino. Comincia dalla città di Napoli e ruotando si fa il giro del mondo per vedere come viene messa in atto un'operazione importante di rigenerazione urbana anche in luoghi complessi. La riqualificazione delle periferie urbane è raccontata con il lavoro di progettisti ed architetti internazionali. È l'idea guida della mostra inaugurata a San Domenico Maggiore, metropoli novissima, promossa dalla Fondazione Annali dell'architettura e della città. Un unico percorso urbano che si snoda fra suggestioni, idee e progetti di alcuni tra i più grandi protagonisti dell'urbanistica e dell'architettura internazionale. Un viaggio su tutte le possibili strategie di recupero, riqualificazione, addizione, pausa, demolizione. Noi immaginiamo una città che è pulsante e che viva nella diversità, dove il degrado non sia consegnato solo all'ambito esterno e quindi da debellare soltanto ai margini, ma da debellare anche, come diceva prima il sindaco di Napoli, quando si insinua nelle aree centrali delle città. Uno spazio esterno ed uno interno proiettano i visitatori in una dimensione sia pubblica sia privata, domestica e collettiva, tipica della città contemporanea. Ed è esito della collaborazione tra comune di Napoli, città metropolitana, regione Campania, sovrintendenza per archeologia, belle arti e paesaggio di Napoli e le università Federico II e Luigi Vambitelli. Oggi tanti progettisti esprimono le loro idee, abbiamo messo insieme progetti realizzati e immaginazioni sulle aree di margine urbano, ma soprattutto riviste alla scala di una città metropolitana, nel caso di Napoli, dove le dimensioni diventano completamente differenti e qui sono una natura differente. L'amministrazione porta avanti non soltanto questi progetti, ma porta avanti una pianificazione urbanistica attuativa, sta trasformando il proprio piano regolatore, porta avanti delle bonifiche nell'area orientale come nell'area occidentale, insomma tutto questo si unisce in un piano concreto a un piano anche di discussione, di elaborazione di un pensiero critico sulla città. Il recupero di un rapporto sempre più vitale tra lo spazio e le persone, questo è un po' l'obiettivo che noi abbiamo nella nostra città, dove le periferie non sono solo quelle tradizionalmente intese geograficamente parlando, ma le periferie stanno anche nei luoghi del centro e in città stiamo lavorando molto per il recupero della partecipazione degli abitanti della città alla riqualificazione del territorio. E poi qua dietro abbiamo uno dei nostri orgogli che aver vinto anche con una posizione apicale il bando per le periferie pubblicato dal governo Gentiloni che siamo riusciti a salvare nonostante la sforbiciata che questo governo ha fatto di un miliardo e mezzo di euro al bando per le periferie, l'abbiamo salvato perché siamo stati pronti, rapidi, efficaci e concreti e quindi il progetto Restart Scampia è un modo di intendere il recupero di spazi degradati, cioè mettere insieme la partecipazione dei cittadini, le professionalità, in questo caso il Dipartimento di Architettura dell'Università Federico II e il Comune di Napoli, quindi questo è un modo per far vivere gli abitanti nel recupero degli spazi tradizionalmente sottratti anche alla vitalità quotidiana delle nostre comunità.